ciò che avete visto potrebbe essere l'inizio di una notizia particolarmente terribile non è, è il comune mi commuove un pochino con questo pubblico qua con tutto questo amore per lui suo compleanno, auguri Michael grazie Ciccini, vai Rino hanno fatto una cosa bellissima questo tributo a Michael Jackson funziona tanti ragazzi, tante persone grazie da Salvo La Rosa un bacio, prima camera ciao 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 ciao